Da vent'anni circa, da quando i cittadini si sono ribellati al progetto di mega parcheggio in questa galleria antiaerea, perché poneva chiaramente a rischio le case soprastanti, da quella volta la scala non è stata mai toccata e pian piano ha cominciato a crollare, ci sono scovazze dappertutto. Il comune si è limitato a mettere le transene e da anni non muove una paglia qui. Qui l'attuale sindaco, vent'anni fa, al suo primo ingresso in comune, ha preso dei voti che sono stati determinanti per la sua elezione, senza nessun merito, ma semplicemente a demerito del sindaco uscente. Pertanto il fatto che non sia intervenuto in tutti questi anni in questo sito è particolarmente significativo e va a suo discapito, senz'altro. In ogni caso la scala qui ha sicuramente la priorità su qualsiasi tipo di intervento. Il fatto sta che i cittadini passano ugualmente anche se è sbarrata, perché hanno bisogno di camminare dall'alto in basso e viceversa in questa zona, non c'è altra via.